Shedir è l'ultima creazione del guest designer Leonardo Fasol, una giacca con cappuccio in popelin di nylon imbottita in piuma d'ana tra 90 e 10. I dettagli tono su tono in ottoman di nylon cotone su cappuccio, carré, patta antivento, tasche e fianchi conferiscono al capo un aspetto sorprendente ma allo stesso tempo lineare. La fodera interna crea un contrasto di colori audaci con il tessuto esterno per un effetto accattivante e moderno. Il cappuccio, il fondo con culisse, i polsini regolabili e la cerniera frontale assicurano calore e comfort a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Shedir offre più soluzioni per custodire gli oggetti. Quattro ampie tasche davanti, mentre all'interno una tasca rete e una con cerniera. L'esclusiva chiusura con fettuccia elastica al collo e l'iconico patch PJS sulla manica sinistra sono i segni distintivi di qualità e resistenza di Parajumpers. velo Grazie a tutti.